Beni per un valore di almeno 44 milioni di euro sono stati sequestrati dal Gico della Guardia di Finanza di Roma al clan camorristico Mallardo, attivo nell'area di Giuliano, a nord di Napoli. Tra i beni sotto sequestro ci sono otto società con sede tra Roma e Napoli, di cui cinque operanti nel settore immobiliare e tre nel commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico, oltre a 152 tra terreni e fabbricati nelle province di Roma, Napoli e Caserta, 14 autoveicoli e diversi conti correnti. Al centro delle indagini una vera e propria holding immobiliare in cui erano coinvolti gli imprenditori romani Michele Palumbo, Angela Sequino e Francesco Biagio Russo, considerati fiduciari del capoclan Feliciano Mallardo. In pratica i tre avevano costruito in Lazio una cellula camorristica federata con il clan partenopeo e costruivano case con il denaro sporco proveniente dalle attività malavitose di quest'ultimo. Grazie alle rivelazioni di collaboratori di giustizia si è accertato che gli imprenditori, per giustificare il notevole apporto di denaro, accendevano regolari mutui poi ripagati con i soldi sporchi. In questo modo riuscivano a mimetizzarsi con il tessuto sociale ed economico legale della zona, servendosi per i loro scopi anche di prestanome incensurati. A far scattare le indagini però proprio il gran numero di investimenti immobiliari nelle aree a sud della capitale nelle province di Napoli e Caserta, oltre alle notevoli disparità tra i redditi dichiarati e l'ingente patrimonio accumulato.